Ho avuto delle difficoltà con i figli nella vita? Sì, ma non sono mai stata una prostituta in vita mia. Non lo sono stata mai. Quando Daiane era ancora piccola, una bambina di 7 anni, il padre è venuto a prenderla per la mia situazione difficile. Insomma, ho avuto tante difficoltà, ma non da arrivare al punto di essere una prostituta. È il loro padre che non mi ha mai aiutato in nessun modo. Quindi sono molto triste, molto addolorata per tutto questo. Perché per una madre è sempre doloroso che una figlia stia sempre a cercare nel passato di una madre. Io tengo a lei, come tengo a tutti gli altri figli. Lei e Juliano, per me, sono tutti la stessa cosa. Figli uguali agli altri, sono amore. E amo tutti i miei figli allo stesso modo. Anche se sono davvero triste per tutto quello che sta succedendo. Io ho sofferto per tirarti su fino all'età di 7 anni. Allora tua madre ti chiede, figlia, lascia tua madre tranquilla, vivi la tua vita. Figlia, io ti amo, sì. Figlia, io ti amo, sì. E tua madre ti chiede, per l'amore di Dio, di smetterla di dire queste cose. Bacio, figlia. Ti amo e... che Dio ti protegga. Fica con Dio. Fici... Qu mini combustibili. Atyra看看 le ultraman è la notazione in speed. Un momento c'è un minuto cappone, perché è un po' di più. Era un po' di più,